La FEDER CONSORSI Poi trattori ancora e motori per usi agrari e industriali. Senza motore corrono questi altri protagonisti della fiera. Al ministro e al senatore Trabucchi offrono lo spettacolo delle loro prestazioni. Ricordano il bel tempo degli equipaggi. E i lini puziani della famiglia rimediano alla bassa statura allungando le gambe. Scrosci d'acqua garantiscono la bonifica alle terre parudose e a quelle assetate.